Bentrovati ad un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Io sono Gerardo Paterna ed oggi vi porto nel mondo dei gestionali e dei CRM. Lo faccio insieme a Gabriele Scavizzi, Sales Director Italy a Pimo. Grazie Gabriele per essere con noi. Grazie a te Gerardo per l'opportunità di poter portare a Pimo oggi qui allo Sgabello. Ci voleva, ormai è già un po' che siete in Italia, quindi è giusto che questo passaggio obbligato sullo Sgabello era veramente atteso e estremamente con piacere. Bene, bene. Allora qual è la storia di a Pimo e come state impattando nel mercato immobiliare italiano? A Pimo nasce nel 2007 da un'esigenza di mercato che oggi possiamo chiamare digitalizzazione, ovvero poter avere uno strumento che possa migliorare, uno strumento tecnologico che possa migliorare l'efficienza e l'efficacia del proprio lavoro, in modo tale da poter avere nelle proprie mani uno strumento che aiuta nella quotidianità e in come sta cambiando il tempo. Quindi l'environment tecnologico, l'ambiente tecnologico aumenta e quindi anche a Pimo è a supporto delle aziende. Noi stiamo cambiando soprattutto la metodologia e la modalità di poter lavorare attraverso un mercato più internazionale. Infatti a Pimo nel 2010-2011, dove è nato nel sud della Francia, ha cominciato a espandersi nel Belgio, Lussemburgo e in Italia. In Italia è arrivato a metà 2018 ed ha iniziato la sua espansione anche in tutto il mondo, perché appunto essendo digitale ed essendo internazionale con più di 25 lingue al suo interno, non tradotti in maniera automatica, ma tradotti con un dataset tecnologico e specifico per il mobiliare, riesce a soddisfare le esigenze di clienti da tutto il mondo. Quindi questa è un po' l'innovazione che noi stiamo portando, supportata poi dall'automazione, perché poi il nostro cliente, ovvero l'agente immobiliare, deve poter lavorare su quelle attività che sono a valore aggiunto e quelle operazioni che noi reputiamo quotidiane e iterative, lo aiutiamo a svolgerle quotidianamente. Ecco, allora io di solito faccio una domanda a tutti coloro che si occupano di software per gli agenti immobiliari, soprattutto quelli che hanno a che fare con i dati come voi. Apimo è più un CRM o più un gestionario? Non riesco a rispondere più uno dell'altro, ma ti posso rispondere entrambi. Entrambi? Entrambi, sì, perché cerchiamo di soddisfare le esigenze di entrambi i nostri clienti, ovvero gli operatori immobiliari e i loro clienti. Quindi lato CRM attraverso le funzionalità che il nostro cliente può mettere in campo, come la comunicazione tramite Whatsapp, come l'invio di alcune automazioni, anche banalmente il compleanno di alcuni loro clienti. E il lato gestionale, quindi il nostro cliente è supportato con le funzionalità e classiche e un po' più innovative che lo aiutano tutti i giorni nella gestione del loro lavoro. Banalmente poter pubblicare su tutti i portali in maniera quasi immediata e avere a disposizione uno strumento, appunto, per il supporto quotidiano delle attività. Possiamo dire quindi che, diciamo, questa barriera, questo confine invisibile che separava un po' il vecchio gestionale dal moderno CRM, in qualche modo, insomma, sta scomparendo, andando verso, diciamo, un modello, una soluzione, una più soluzione che implementino un po' entrambe le cose. Questo è il livello di scenario, te lo chiedo dai tuoi lavori. Assolutamente sì, concordo. Noi facciamo ancora oggi, non dico molta fatica, ma mettiamo molto focus nel far capire proprio quello che hai appena detto al nostro cliente, perché il nostro cliente, alcune volte, come ci dice sempre, sono abituato a fare così, però noi, insomma, il nostro lavoro è proprio quello, cercare di scardinare un po' le abitudini e portarlo, appunto, nella digitalizzazione, ovvero una riorganizzazione del suo lavoro, che mi rendo conto essere comunque una barriera anche sentimentale e operativa, soprattutto, e noi lo aiutiamo, appunto, con CRM barra gestionale. Ecco, prima scendiamo un po' nel dettaglio. Cosa trova l'agente immobiliare in Apimo rispetto ad altre soluzioni che sono già presenti sul mercato? Dovrei veramente... La vista della spesa... Sì, esatto, no, però mi limito ad alcune funzionalità a me molto care, mettiamola così, a me molto care. La prima è la scalabilità. La scalabilità è un qualcosa che permette oggigiorno di poter avere uno strumento sia per un agente singolo, che ha bisogno di poter fare le operazioni in autonomia, sia fino ad arrivare ai grandi gruppi internazionali che operano su molti paesi. Quindi il nostro gestionale ci permette di poter anche personalizzare tutte quelle attività che l'operatore deve fare, sia che è appunto un singolo, sia che è un insieme di strutture, come può essere anche un franchising. Ha a disposizione un'applicazione nativa, che permette di poter lavorare, dico una parolaccia, smart, ma fondamentalmente in mobilità, ovvero nella routine quotidiana, nella fretta delle trattative, degli appuntamenti e non perdersi nulla. Può avere un sito web dedicato alla verticalità del settore, quindi poter non perdersi nulla, avere tutto sincronizzato e poter dare un'immagine di sé verso il mercato, molto importante. Può avere degli incroci tra domanda e richiesta molto personalizzati, quindi non rigidi e soprattutto customizzati su quello che è le necessità del loro cliente. Ogni agenzia, ogni imprenditore, ogni agente è diverso e questo è quello che permette ad Apimo di essere molto, come dire, differente rispetto ad altri. In seconda istanza posso dirti la qualità dei dettagli. I dettagli per me fanno una differenza, perché è vero molti gestionali fanno, non dico tutte le stesse cose, però molte operazioni sono operazioni fatte nella stessa maniera. Però il modo con cui Apimo riesce a supportare i nostri clienti, banalmente non abbiamo l'agenda collegata non con soltanto un calendario, ma con ben tre calendari, quindi Google, Apple e Microsoft, quindi un'attenzione a quello che può essere la necessità del nostro cliente è un aspetto molto importante che noi cerchiamo di, come dire, di vendere ad ogni esigenza, quindi di colmare un'esigenza rispetto del nostro cliente. In terza istanza, e forse l'avrei dovuto citare per primo, quindi ultimo ma non ultimo, il supporto. Il supporto per me è molto caro ed è molto caro anche all'azienda, perché? Perché il processo di digitalizzazione, ovvero la riorganizzazione della propria struttura, è un processo che passa attraverso dei cambiamenti. Il cambiamento, sai, è difficile, è difficile. E noi fin dal pre vendita cerchiamo di aiutare e supportare il cliente per passarlo poi al nostro reparto di formazione continua mensile, con dei webinar live, fino ad arrivare a poter essere autonomo con dei video tutorial all'interno del programma. Quindi fondamentalmente APIMO cerca di minimizzare gli errori, la perdita di dati, le inefficienze, le mancate opportunità, dando uno strumento tecnologico a supporto per far sì che il business possa crescere. C'è una criticità che riguarda l'utilizzo del gestionare. Nel, diciamo, nel tourbillon quotidiano spesso l'agente immobiliare ha un gestionare, un CRM, una soluzione di gestione del dato che fa 100 cose, ma lo usa al 20-30 per cento perché magari ha difficoltà ad aggiornare l'appuntamento, non c'è mai tempo, spesso queste attività sono delegate magari a un terzo. Ecco, vorrei che tu facessi un appello indicando quali sono in realtà i vantaggi che derivano da una gestione del dato puntuale. Grazie per la domanda perché è un tema molto attuale, com'è che si dice in inglese data is the new oil, il nuovo petrolio. Il dato, faccio una premessa piccolina, il dato per essere usato deve essere innanzitutto immagazzinato, poi deve essere strutturato, visualizzato e poi usato, perché altrimenti se questo processo manca di qualche pezzettino non si riesce a ottenere il risultato che si potrebbe ottenere sfruttando bene il dato. Certo. Questo è quello che un software, molte volte sento dire i software, le macchine ci ruberanno il lavoro, in realtà questo è quello che un software ti riesce, ti può dare, ti può dare una costanza nel tempo per far sì che questo dato sia sfruttato fino all'ultimo byte. Ti faccio un esempio, in Apimo puoi o in maniera automatica o in maniera manuale iscrivere un cliente per l'invio di un immobile rispetto alle sue esigenze. è chiaro che se ho 10 immobili, quest'operazione e 20 clienti, banalizzo, quest'operazione riesco a farla in maniera manuale, ma quando comincia ad aumentare la complessità, comincia ad aumentare la frenesia, il tourbillon, come ha detto, della giornata lavorativa, l'efficacia viene meno e quindi il dato non ti supporta più nella tua attività. Ecco perché faccio l'appello a tutti gli operatori e a tutti gli agenti immobiliari di poter iniziare veramente a pensarla in un'altra maniera, ovvero ho il dato, lo incamero, cerco di capire qual è quel dato che mi serve realmente in base alla mia clientela, ogni agente è diverso, e lo sfrutto al meglio. Certo. E questo ci permette di avere poi alla fine un effetto wow. Cosa intendo con l'effetto wow? Intendo che un cliente finale che si vede ricevere quell'immobile dopo 8 mesi che tu magari non hai contattato e dice, ah, è proprio l'immobile che stavo cercando, senza che tu ti mettessi nel poter fare quest'operazione, è un effetto appunto wow che ti permette anche di fidelizzare il cliente e quindi non è soltanto io utilizzo il dato oggi per far sì che effetto una vendita, ma è un'impostazione mentale di lavorare nel tempo e costruire veramente un patrimonio su cui poter attingere quando poi si ha necessità. Certo, ci va metodo quindi. Ottimo. Allora, ultima domanda. Allora, arriviamo al dunque, arriviamo al dunque. Allora, come si entra in contatto con Apimo? Allora, in modo molto semplice, su apimo.com e su LinkedIn trovate i miei riferimenti, i riferimenti dei miei colleghi e prendo spunto anche per ringraziare tutto il mio team, sia Italia che in sparso nel mondo, perché altrimenti senza di loro oggi, insomma, Apimo non poteva avere e ovviamente anche, soprattutto grazie a te, non avrebbe potuto avere l'opportunità di essere qui a parlare e a far capire quanto è importante dotarsi di uno strumento. Grazie a voi, grazie per il vostro lavoro preziosissimo. Gabriele, la tua disponibilità è stata eccezionale. Preparati perché fra qualche mese ti rivolgo di nuovo sullo Sgabello per raccontarci le novità. Con molto piacere. Grazie. Grazie a te. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo Sgabello, puoi scrivere a losgabellocchiocciola gerardopaterna.com. Ci vediamo in un'occasione del prossimo video. Grazie a tutti.